E' stato un grande successo il Canta Natale 2021, per questa edizione è stato scelto il classico di Miriam Makeva Patapata con un testo scritto per l'occasione in versione natalizia. L'evento era stato sospeso lo scorso anno per l'emergenza sanitaria, è tornato quest'anno ai giardini dell'arena e, con una delogazione ridotta, sotto le finestre di pediatria. I presenti esponenti della politica e del mondo sanitario, insieme a tanti padovani, grandi e piccini, hanno ballato per salutare i piccoli pazienti di pediatria e portare loro la gioia del Santo Natale. Grazie